Da Palazzo Gradari al San Domenico passando per Pesaro Studi. E' questa la triangolazione di grandi manovre su cui si stanno sviluppando le prospettive di allargamento dell'offerta di corsi universitari a Pesaro. Un'università che è ripartita in città come succursale dell'Ateneo della Politecnica delle Marche in merito ai corsi che attualmente si stanno tenendo a Palazzo Gradari. Ora i piani di allargamento dell'offerta formativa universitaria di Pesaro sembrano trovare un punto di convergenza con le prospettive di rigenerazione urbana del Comune. In particolare con quelle del recupero del San Domenico. Ovvero dello storico complesso edilizio da anni ingabbiato dai cantieri di Via Giordano Bruno e che meno di un anno fa lo stesso Comune ha acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Un San Domenico che ora assieme a Palazzo Almerice e Palazzo Mazzolari rientra in un piano di finanziamenti ministeriali di rigenerazione urbana che può beneficiare di 20 milioni di euro. Una rigenerazione che sul San Domenico il Comune intende operare in due direzioni. Concentrare in questa struttura diversi uffici comunali attualmente sparsi per la città e ritagliare aule e laboratori per l'università. L'amministrazione si sta attivando per presentare un progetto entro giugno ma le esigenze di allargamento della università sono più impellenti. Motivo per cui è tornata in auge l'idea del recupero di Pesaro Studi. Nei giorni scorsi c'è stato infatti un sopralluogo alla sede di Smessa di Viale Trieste da parte di tecnici comunali e incaricati dell'Università Politecnica. Al vaglio le possibilità di un recupero di spazi già per l'anno accademico 2022 in attesa di una soluzione di lungo termine come quella che si sta prospettando sul San Domenico.